Sono Manuela Bellantoni, sono Presidente del Comitato dei Genitori dell'Istituto Comprensivo Domenico Purificato. Per quanto riguarda il progetto Pedibus, il nostro compito è stato fondamentalmente quello di informare le famiglie e favorire la partecipazione delle famiglie al progetto. Il primo passo che abbiamo pensato di fare insieme alla Mobility Manager dell'Istituto è stato quello di organizzare una riunione alla quale abbiamo invitato tutti i rappresentanti di classe e le insegnanti coordinatrici dell'Interclasse. La riunione è stata organizzata a scuola, alla riunione hanno partecipato anche Roma Servizi per la Mobilità e il Comitato dei Quartieri, quindi erano presenti tutte le persone che hanno partecipato all'organizzazione del progetto. Durante la riunione abbiamo presentato a tutti quanti i fratini che erano stati acquistati precedentemente dal Comitato dei Quartieri. Sui fratini abbiamo fatto stampare il logo del Pedibus che ci è stato fornito da Roma Servizi per la Mobilità. Nella stessa occasione abbiamo presentato anche le nostre paline, una sorta di grande totem di cartelloni su scritto il nome del percorso, con i colori del percorso. Devo dire che sono stati estremamente utili. I cartelloni li abbiamo fatti in casa, abbiamo all'interno del comitato un genitore che fa il grafico di professione, che ha creato la locandina. La locandina è stata ovviamente approvata dal Mobility Manager, l'abbiamo poi stampata e semplicemente grazie a dei cartelloni e a dei tubi di cartone abbiamo creato il nostro totem che ci è servito durante i percorsi. ragazzi. Dicevo che sono stati utili per due motivi fondamentalmente. Il primo riguarda i bambini. La mattina durante il percorso i bambini erano molto divertiti e anche orgogliosi di andare a scuola con il fratino indosso e poi c'è stata una sorta di gioco, di corsa a chi voleva portare la palina e quindi fare da capofila per andare a scuola. La seconda cosa per cui sono stati estremamente utili è stato il fatto che rendevano il gruppo del pedibus estremamente riconoscibile lungo il percorso e questo soprattutto nel momento in cui bisognava attraversare le strade. Se pensiamo alla sicurezza dei bambini, gli automobili, automobilisti quando ci li vedevano arrivare già da lontano si accorgevano che c'era un gruppetto di persone che attraversava la strada rese visibili appunto sia dal fratino che avevano i bambini indosso e sia dalla pallina. Come comitato dei genitori abbiamo inoltre un sito web e una pagina Facebook. Abbiamo quindi pubblicato articoli e post su tutti e due gli strumenti. Abbiamo inoltre una grande mailing list di tutti i genitori che sono iscritti al comitato dei genitori e anche tramite email abbiamo inviato le informazioni che riguardavano il pedibus. Per quanto riguarda poi l'organizzazione pratica del percorso c'è stata una differenza tra i quattro gruppi che noi avevamo formato, tra i quattro percorsi, in uno in particolare nel quale i genitori si conoscevano bene, abbastanza bene tra di loro. Dopo circa una settimana di sperimentazione del pedibus i genitori hanno subito iniziato a voler suddividersi l'accompagnamento a scuola. Questo è stato fatto semplicemente tramite un foglio condiviso, un file condiviso tra i genitori. Abbiamo messo su un calendario, ogni genitore poteva inserire all'interno del calendario il proprio giorno preferito in cui accompagnare i bambini a scuola con tutti i riferimenti del caso, quindi il numero di telefono, la fermata nel quale lui avrebbe preso il gruppo. Ed è stato estremamente utile perché in questo modo le famiglie sono state aiutate nella gestione mattutina dell'andare a scuola. Chi non poteva accompagnare i bambini poteva lasciarli all'appuntamento e poi correre direttamente in ufficio. In altri gruppi invece, soprattutto quelli in cui i genitori si conoscevano meno bene tra di loro, non c'è stata subito questa suddivisione negli appuntamenti perché i genitori hanno preferito continuare ad accompagnare i figli a scuola. Questo perché, lo dico anche da mamma, ovviamente uno ha bisogno di fidarsi, quindi di conoscere prima bene l'adulto a cui si sta affidando il proprio figlio. Però devo dire che il risultato alla fine dell'anno scolastico è stato molto bello perché, soprattutto in questi gruppi dove i genitori si conoscevano di meno, sono create nuove amicizie, sono venuti fuori anche momenti di socializzazione, c'è chi voleva andare assolutamente, parlo anche degli adulti e non solo dei bambini, voleva partecipare al pedibus anche solo per poi prendersi un caffè una volta lasciati i figli a scuola e prima di andare in ufficio. Basta puntare un po' sulla partecipazione dei bambini perché poi sono anche loro che tirano dentro le famiglie e hanno voglia di partecipare, di andare a scuola a piedi perché diventa un momento divertente. Per le famiglie è sicuramente un momento di aiuto e di supporto, anche la mattina quando, bene o male, siamo tutti un pochino di corsa. Spero adesso, finito l'anno scolastico, riprenderemo l'anno prossimo sicuramente con il nostro pedibus e non vediamo l'ora di farlo.